Ragazzi, sto dietro al muro, ho scritto Matteo Borbocco 2018, 2028 Terza anno per 6, ultimo giorno di scuola Tanto bordello Matteo, ci scupiamo, sto cazzo E' finito l'anno Vedete, siamo a scuola E' finita, è finita Chiudete le valigie, amici Si va a Berlino, Beppe Si va a Berlino, Beppe Andiamo a Berlino Andiamo a Berlino